Ti sei mai chiesto chissà che c***o fanno i professionisti, cioè quelli che stanno nella top 10, nelle loro sessioni di mix che tu non stai facendo e quindi senti quel divario, il famoso gap del fonico, quel divario tra le tue produzioni e le loro produzioni? E online ci sono tantissimi contenuti, quelli gratuiti, quelli a pagamento, quelli dei cialtroni, quelli dei professionisti, ce ne sono tantissimi, ma non è mai come fargli le domande di persona e vedere in tempo reale che cosa fanno, è quello che vogliamo fare quest'anno per la Masterclass Dirco. Si terrà il 14 luglio vicinissimo a Conegliano Veneto, la stessa location dell'anno scorso, ci è piaciuto molto, si mangiava e si beveva anche bene, quindi sai quando sei vicino all'enoteca è difficile dire di no, ma anche grazie al supporto dello studio e di registrazione che c'è sotto questa enoteca, il The Central Recording Studio l'avete visto nel mio, andatevi a vedere magari il video dell'anno scorso del Masterclass per farvi un'idea. Però l'idea di quest'anno è che sempre grazie ai K-Multimedia abbiamo delle ottime casse in questa sala. Guarda che bell'uomo, guarda che bell'uomo! Sì, questa è la setup dell'anno scorso, noi sul palco e i ragazzi di fronte con cui si parlava, ma ho pensato che quest'anno potrebbe essere ancora più interessante se io e Francesco ci mettiamo in mezzo al gruppo dei ragazzi e per la mattinata effettivamente io mixo un pezzo insieme, lo facciamo proprio a quattro mani, o a 350 mani se consideriamo tutti quanti voi. Sarà data unica, quindi c'è una sola data, quest'anno non saranno due giorni e mixiamo con Irko, cioè lui aprirà una sessione e da zero andiamo a mixarla tutti assieme, abbiamo visto che grazie all'MTM e tutte le tecnologie K-Multimedia si sentiva molto molto bene nella sala dove eravamo e vogliamo diciamo fare un passo avanti rispetto all'anno scorso, pensarla ancora più per chi vuole veramente fare questo lavoro di mestiere, ok? Cioè proprio per professionisti e andiamo proprio dentro la sua testa, dentro il suo workflow a capire che cosa fa suonare i suoi mix come suonano i suoi mix, ok? Mix col farfallino come li chiamano. E abbiamo visto anche l'anno scorso come lui poi sia anche una fonte incredibile di informazioni sugli ins and outs, come diceva lui, dell'ambiente, ossia di... Poi nel pomeriggio possiamo parlare di quello che abbiamo fatto la mattina, possiamo parlare delle cose più filosofiche o di business o magari delle mie macchine. Grande Joe! Come ha costruito queste relationship con gli artisti, come parla con le case discografiche, come parla, come testa i suoi mix, insomma ci sono tante cose secondo me oltre il che plugin usa, che ce ne frega il giusto. Ci sono come l'anno scorso poi un sacco di sorprese per i partecipanti? Eh certamente, adesso magari non spoileriamo troppo subito, però come l'anno scorso ci saranno grandi regali e... No magari non grandi, ma insomma belle cose che vi potranno essere molto utili oltre poi buoni sconto eccetera eccetera insomma, quindi sarà sicuramente una cosa interessante. Non so quanto vi posso rivelare al momento a riguardo e quindi lascio anche un po' la parola a lui, a Irko. Il biglietto lo si compra soltanto dopo l'invito, è una cosa così esclusiva quest'anno e quindi speakeasyworkshop.net, da là scrivi sul contatto e poi i miei ragazzi vi manderanno la prevendita. Per il primo periodo il biglietto costerà un po' meno e nell'ultimo periodo invece il biglietto costerà di più. La cifra ancora non l'abbiamo ben decisa ma ve la scriveranno sull'email, ok? A prestissimo ragazzi, ciao! Sarò presente anche io a questa masterclass come innanzitutto alunno perché non mi metterai mai lo stesso piano di Irko, ma soprattutto un po' come moderatore, ossia spezzo un po' il ghiaccio, insomma un po' sai l'impaccio iniziale, sono cazzone abbastanza da fare questo tipo di mestiere. Ma anche tante volte per offrire delle alternative a chi non mastica Pro Tools e quindi alternative a alcune funzioni di Pro Tools per altri DIY oppure alternative ai plugin che lui usa, sapete che io sono questa libreria illimitata di plugin gratuiti o a basso costo, tante volte durante la masterclass vi sto dare delle alternative in tempo reale, l'hanno giudicato comodo anche l'anno scorso e poi ci facciamo due chiacchiere, ci brindiamo, ci facciamo un bicchiere di vino assieme che non è mai male anche di persona. Bene, penso che sia tutto, manca solo a questo punto il prezzo, quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti alla mailing list che c'è sul sito di Irko, lui scriverà a tutti i presenti in quella lista tutte queste condizioni e chi vorrà si potrà iscrivere, però l'unico modo di essere nella lista è essere in quella lista, ok? Non scrivete a me, non sto gestendo direttamente la cosa, dovete scrivere a Speak Easy Workshop.